Volevo commentare sulla questione della detenibilità legale delle armi in Italia. Questo è un problema che ovviamente fa impazzire i nostri nemici, quelli che sono contro le armi, eccetera, eccetera. Però il detentore legale di armi non commette crimini. Questo è stato provato da uno studio dell'Università della Sapienza di Roma, dove vengono fuori dati molto interessanti. La stragrande maggioranza degli omicidi violenti vengono praticati con armi illegali. Non con armi legali. In realtà è molto interessante. È usato molto di più il cuscino o i coltelli per gli omicidi, soprattutto in famiglia. Per cui dovremo a questo punto qua anche rendere illegali i cuscini e i coltelli. Non parliamo delle automobili che in Italia solamente uccidono migliaia di persone.